Molti esperti guidatori, ma chi è che non lo è, decidono di cambiare l'olio solo quando lo sferragliare del motore supera il rombo della marmitta ed in concomitanza c'è un olio qualsiasi in offerta, o meglio, con meno ricarico del solito, al supermercato. Ammetto di far parte di questa categoria. Ricordando vagamente la gradazione raccomandata per il motore TDCi Duratorque 1400 di innumerevoli tombini, semoventi, Ford, Peugeot, PSA, Citroen e presto probabilmente anche FCA, ma di certo è che l'olio abbia la stessa base, sintetico oppure semisintetico oppure minerale. Che la bassa viscosità a basse temperature, quella indicata con la W, favorisce l'avviamento a freddo, mentre quella alta ad alte temperature favorisce la protezione del motore, creando un film protettivo più resistente anche se a scapito della resistenza allo scorrimento. Ma verosimilmente è controbilanciata dall'usura del vecchio motore che delle tolleranze progettuali probabilmente ha solo un lontano ricordo, magari anche per sfruttare meglio il freno motore, e che solo l'olio raccomandato permettesse le prestazioni dichiarate in termini di consumi, velocità, eccetera, constatato che in pratica sempre disattesi e che un tagliando dal concessionario autorizzato supera il costo del macinino, ho deciso di prendere un 5W40 Total, essendo in promozione, invece del raccomandato 5W30 Ford. Dopo la sofferta decisione, rispolverata la fidata pompa aspiraolio da inserire nel condotto dell'asticella per la verifica del livello, estratti circa 3 litri di olio, rimpiazzati da altrettanti del nuovo, e già che c'ero dato una pulita approssimativa al filtro dell'aria, ho provveduto a fare un test sulle tortuose strade del Basso Molise, dove l'uomo del soccorso stradale non mi troverà mai, quindi speriamo che le raccomandazioni Ford servano solo per smerciare il loro olio. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto, grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.